che ansia terribile ragazzi che ansia terribile che giornata carica di emozioni chi non è di Roma non lo sa che cosa vuol dire soprattutto perché oggi anche no ha un'importanza importanza elevata questo derby non ci sono i tre punti ma c'è un passaggio di un turno che ti può portare comunque a una semifinale di Coppa Italia e sappiamo noi ci possiamo girare intorno quanto ci pare chi non è di Roma non sa che cosa vuol dire soprattutto se si gioca in Coppa Italia dove probabilmente anche se noi non vogliamo accettarlo la Roma ha subito una delle sconfitte più pesanti che più ci ricorderemo per il quale i nostri cugini ci sfottono sempre e quindi parlo da parte di tutti i romani romanisti ovviamente perché oggi voglio parlare in questo pre partita con la voce del romano romanista e sempre in maniera pagata perché prima durante subito dopo è difficile un po connettersi no con quello che è il calcio in sé per sé ma ci sono una serie di emozioni che ti sovrastano e che non riesci a controllare non riesci a controllare perché ci inizi a pensare il giorno prima poi prosegui la tua giornata che sembra del tutto normale ma poi capisci che in realtà una giornata come le altre non è la Roma si gioca tutto la Roma si gioca la faccia la Roma si gioca l'orgoglio ed ha una grandissima opportunità quella di andarsi a giocare una semifinale contro la vincente della sfida tra Juventus e Frosinone non è una partita come le altre ma dobbiamo affrontarla da grandi professionisti e con grande spirito oggi l'olimpico sarà per la maggior parte bianco celeste perché così è è Lazio Roma e non è Roma Lazio e la Roma deve essere subito forte di quello che è stato il trend delle ultime delle ultime settimane una Roma in crescita una Roma che sta esprimendo un calcio migliore una Roma che sembra essere tornata a quella immagine e somiglianza del suo allenatore con qualcosina in più con un po di qualità in più con più giocate e con minori paure probabilmente è più sicura oggi ci saranno delle scelte importanti perché comunque manca anche Llorente quindi Ausen giocherà per la sua prima volta da tirare con la maglia della Roma a 18 anni in un derby e quanto pesa questo la personalità fatta vedere da questo ragazzo mi ha impressionato nella partita con l'Atalanta e soprattutto avrei voluto fare questo video appigliandomi a qualche parola del post Atalanta e del pre Roma Lazio ma non c'è stato quindi la società non ha parlato non ha parlato nessuno sono tutti in silenzio e quindi mi faccio non sono riuscito a scaricare l'attenzione ascoltando le parole ad esempio del nostro allenatore cosa che faccio tutte le settimane nella delle partite perché comunque mi mi tranquillizzano mi fanno passare quei 5 10 minuti no un po' più un po' più sereno e la partita sarà difficile però dobbiamo sfruttare una cosa la Lazio ha delle assenze e su questo giocheranno molto in caso di sconfitta però questo non voglio dirlo perché mancheranno probabilmente i mobili di Zaccagni anche Isaksen Luisa Alberto solo in panchina quindi comunque giocheranno Pedro Felipe Castellanos che comunque ragazzi poi nei derby non è il nome o chi gioca o chi non gioca la verità è questa fosse mancato di bala la Roma allora ti dico gira tutto intorno a di bala è più difficile perché crei meno calcio e fai meno gioco però con le assenze no della Lazio che comunque sono importanti manca un pochino più di qualità e soprattutto di esperienza nei derby non è vero perché Felipe Anderson ha fatti 400 Pedro è un giocatore che neanche vi devo spiegare qual è il suo palmaresse insomma quindi possiamo sfruttare le debolezze che la Lazio ha mostrato perché questo è da dire la Lazio ha mostrato delle debolezze come le ha dimostrate la Roma all'inizio di questo campionato però dobbiamo avere fame quella fame che ho visto contro il Napoli e quella fame che ho visto contro l'Atalanta e anche quella che ho visto a Torino dove però purtroppo siamo stati presi un po' in mezzo dalla partita che era quella che ci aspettavamo deve continuare questo trend positivo e deve farlo per la maglia deve farlo per la maglia perché oggi come non mai dobbiamo vincere questa partita perché la Coppa Italia deve essere un obiettivo della Roma che vuole finalmente conquistare quella decima Coppa Italia che è alla portata secondo me ovviamente poi se dovessi vincere il derby devi aspettare Juve Frosinone probabilmente Juve e quindi sarebbe una doppia sfida importante però dall'altra parte ieri è passata la Fiorentina ci sarà stasera Milan-Atalanta puoi trovare sicuramente delle difficoltà ma comunque ad esempio non c'è l'Inter che per me era la grande favorita anche della Coppa Italia quindi secondo me tutte le squadre che sono rimaste hanno le stesse identiche possibilità di vincere questa Coppa e la Roma conoscendo anche Murigno secondo me punterà molto su questa Coppa per poter essere tranquilla l'anno prossimo di giocare in ogni caso l'Europa League altra competizione dove secondo me la Roma vuole andare fino in fondo poi se si raggiungerà il quarto posto in campionato bene perché è quello però secondo me Murigno punta anche tanto sulla Coppa Italia perché un trofeo nazionale alla Roma manca tanto manca tanto e questo è innegabile che oggi è una grande opportunità ci sono tutti i presupposti per fare il bene tutti i presupposti per avere una grande Roma tutti i presupposti per vincere la partita perché dobbiamo vincere questa partita la dobbiamo vincere bene non 7 a 0 anche 1 2 a 0 2 a 1 insomma quale sia sia il risultato anche 1 a 0 però bene cioè dimostrando di essere superiori io sono convinto che la Roma a livello di uomini sia superiore alla Lazio e non è una sfotto oddio ecco quello della Roma come tanti mi stanno aditando ultimamente sul canale ma per me è un dato di fatto che la Roma abbia la rosa migliore della Lazio e chi mi dice il contrario secondo me vede poche partite e conosce poco i giocatori soprattutto quindi se ci vogliamo prendere in giro diciamo che la Lazio è superiore alla Roma l'anno scorso e la seconda chi invece vede le partite di calcio non può pensare che la rosa della Lazio a parte qualche giocatore che comunque ha quella qualità in più no sia migliore di quella della Roma cioè questo ragazzi è fuori discussione è senza ombra di dubbio una realtà a prescindere dai colori però quella superiorità quando ce l'hai poi la devi dimostrare ed oggi secondo me è il momento di dimostrare quella superiorità perché innanzitutto negli ultimi derby 0 gol negli ultimi tre derby a Roma 1 a 0 1 a 0 0 a 0 2 autocall praticamente nei derby persi 1 a 0 e 1 0 a 0 noioso quello dell'ultimo campionato dove tutti avevano paura e dove nessuno si è preso quella responsabilità di dire siamo migliori di loro quindi questo a prescindere e finalmente per avere un click in questa stagione un derby ti può cambiare una stagione un derby vinto tra le polemiche no un derby vinto bene sì te la cambia la stagione perché purtroppo siamo provinciali che ce dovemmo fare cioè il derby è questione di provincialità e se essere provinciali questo va bene perché oggi sarà uno spettacolo sarà una corrida sarà un un turbinio di emozioni grande un turbinio di emozioni grandissimo che va scaricato poi in campo e vedendo no queste due squadre darsi battaglia fino all'ultimo minuto la paura non deve esistere questa sera deve il coraggio per dominare nei giocatori della Roma perché possiamo vincere questa partita e noi oggi ci giochiamo tutto e tanto della stagione che che deve continuare perché ripeto ci può dare tanta tanta fiducia quindi forza Roma dai ragazzi conquistiamo questa partita e dateci questa gioia perché oggi essere romanisti vuol dire qualcosa di più detto c'è ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un bel like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e condividete il video l'emozione non mi ha fatto dire all'inizio del video perché ero pronto a parlare però fatelo vi costa poco ci rende tanto felici e ci dà sempre nuovi stimoli per andare avanti detto c'è ragazzi buona giornata a tutti ci vediamo stasera ovviamente con il post partita di Lazio Roma e con il post partita dell'altra dell'altro quarto di finale tra Milan e Atalanta dai Roma dai